Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso presentato da Antonio Gaia, Pietro Francesco Zanchetta e Marzia Cillocu nella loro qualità di cittadini elettori nonché di candidati al Consiglio regionale della Sardegna. I tre contestavano la regolarità nella presentazione delle liste della Lega, di Forza Paris e di Campo Progressista. Secondo i tre ricorrenti infatti le tre liste non avrebbero raccolto le firme necessarie per la presentazione alle elezioni ricorrendo ad un espediente non legittimo. Stamattina però il Tar ha respinto il ricorso. In provincia di Oristano sarebbe stata esclusa la consigliera della Lega Annalisa Mela e sarebbe stato eletto invece Fisio Trincas del Pisdazio e Antonio Solinas del PD.